Mascherina FFP2 confezione da 50 pezzi Per garantire una maggior igiene, tutte le mascherine presenti all'interno della confezione sono imbustate singolarmente. Le mascherine FFP2 sono studiate per garantire il massimo comfort dell'utilizzatore. Sono formate da 4 strati, uno strato interno, uno strato intermedio, uno strato filtrante e uno strato intermedio. Come potete vedere il nasello presente all'interno delle mascherine FFP2 è morbido e avvolgente e questo garantisce una migliore aderenza al volto.